Ciao ragazzi, volevo farvi vedere attraverso questo breve video Android 4.4 KitKat sul mio Nexus 4 Allora però faccio una premessa, io non sono un esperto, non è che faccio per mestiere recensioni di telefonini smartphone, Android, iPhone quello che volete voi, semplicemente mi limito a riportare quella che è stata la mia esperienza al momento Allora questo è un Nexus 4, quando l'ho preso c'era preinstallato Android 4.3 Jelly Bean Onestamente ce l'ho tenuto dentro poco, dopodiché seguendo i vari tutorial che si trovano sul web ho provveduto a metterci dentro la Ciano Game Mod ce l'ho messa perché chiaramente permette un livello di customizzazione, di personalizzazione del telefono maggiore rispetto alla ROM stock che monta questo telefono qua Adesso dopo averlo utilizzato per qualche mese con la Ciano Game Mod ho deciso di andare a montare praticamente l'Android 4.4 stock di Google Qualche giorno fa sono stati rilasciati i file immagine originali di Google e quindi ce l'ho messo dentro Per metterlo dentro è veramente facile Io praticamente l'ho caricato con l'applicazione Android SDK seguendo i vari tutorial che si trovano sul web Io l'ho trovato su Android Word mi pare ed è veramente facile cioè roba da stupidi poi se ci sono riuscito io potete riuscirci veramente anche voi Vi faccio vedere un po' il telefono Adesso è spento e lo accendo Vedete all'avvio la differenza del simbolino che viene quando parte il telefonino Al momento ce l'ho da due giorni in questo 4.4 Ancora il telefono non ci ho messo praticamente niente Sto utilizzando un Nova Launcher con veramente il minimo essenziale al momento Vi faccio vedere un po' il discorso Vedete Android 4.4 La K di KitKat E poi Android 4.4 Volevo farvi vedere quelle che sono le differenze che io ho riscontrato rispetto alla Chanogam Mod 4.2.2 che avevo prima e rispetto anche alla 4.3 Andandole a vedere per settori reparti Ecco intanto le mail Le mail Vedete che c'è questa catalogazione per colori Ed è veramente carina Veramente non male Praticamente fa una catalogazione intelligente Associando una lettera Allo stesso mittente Quindi se voi praticamente frequentate dei forum Oppure frequentate dei blog Insomma e avete notifica di risposta Lui praticamente ve le catalogherà Con questa letterina davanti L'altra notizia interessante È che si possano cancellare direttamente le mail Semplicemente trascinandole da parte Questo ritengo che sia una cosa molto comoda Mentre prima si dovevano selezionare E poi premere il cestino per cancellarle Questa è la prima curiosità simpatica che ho riscontrato nel sistema L'altra cosa carina che praticamente ho trovato A parte vedete le icone del telefono L'icona del telefono che è leggermente diversa Rispetto all'Android 4.3 L'altro discorso che praticamente Al pulsante All'applicazione Hangout Praticamente Viene associato Tutto quello che riguarda L'Hangout Proprio per chi usa Hangout Quindi per chi fa videochiamate O scambia messaggi con G Plus E gli SMS Quindi questa applicazione viene raggruppata Anche qui c'è la possibilità di cancellare Direttamente le notifiche Che si ricevono semplicemente trascinandole C'è la possibilità di partecipare Di entrare direttamente in chat Con qualcuno dei vostri contatti Che sono al momento collegati sopra Collegati con G Plus E c'è la possibilità appunto Sempre da qui di inviare O un SMS Quindi basta digitare qua L'indirizzo di chi si vuole E praticamente Si può inviare O l'SMS Oppure praticamente Avviare una chiamata In Hangout E sotto questo punto di vista L'ho trovato veramente Molto molto comodo Ecco perché praticamente Raggruppa tutto quello che è Il discorso messaggio All'interno dell'Hangout Questa cosa qui Nelle altre versioni Onestamente non l'avevo vista L'ho trovata qua L'altro discorso riguarda L'interfaccia di chiamata Che è leggermente diversa E in pratica appena si schiaccia Il simbolino del telefono Praticamente Ci apre questo blocco Dove praticamente farà vedere Nella parte qui di sotto Tutti i numeri recenti Che abbiamo chiamato Da cui abbiamo ricevuto Delle telefonate Per cui sarà sufficiente Cliccare su uno Di queste Di queste iconcine Che ci appaiono Per fare Quel numero E eccetera 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 Se si vuole comporre il numero Invece si preme il tastino numerico E si fa il numero Che si deve fare Queste sono le principali Varianti che ho trovato L'altra cosa che ho trovato Che vi volevo far vedere Sicuramente interessante E' il fatto Della batteria Come potete vedere Al momento La batteria è al 19% E' al 19% Ma come vedete E' acceso il telefono Senza mai essere stato spento Da un giorno E 17 ore Mi sono accorto Che Praticamente La gestione della batteria Di questo android 4.4 E' veramente eccezionale Rispetto a quelli Che avevo avuto prima E secondo me L'aumento Della gestione della batteria Si attesta Intorno a un 30-40 Forse anche 50% Ma non vorrei esagerare Sicuramente La batteria dura di più Di questo ne sono Abbastanza Convinto Per quello che riguarda Le applicazioni Di serie Troviamo Chrome Chiaramente Essendo un prodotto Google c'è Chrome Poi vado a scorrere Praticamente C'è Currents C'è Drive Google Drive Google Earth Google Fire Photo E poi vediamo un po' C'è Keep Quello per le note Praticamente E poi Che c'è di interessante C'è Play Games Play Books E Quick Office Quick Office Praticamente Messo di default Nel telefono Non l'ho ancora utilizzato Anche perché Solitamente non lavoro Con tabelle Excel In questo telefono Ma lo uso più che altro Per le mail E poi non c'era altro Di default I widget Sono quelli Gli stessi Che ci sono In tutti In tutti i telefoni Stock Android Per quello che riguarda La parte di Personalizzazione Customizzazione Purtroppo Però Veramente Non c'è Margine Di manovra Ora io In questo momento Ho messo Il Nova Launcher Che permette Di regolare Il numero Di righe Di colonne Perché Di default Praticamente Ci sono 4 I 4 Colonne E 5 righe Mi pare C'è una tristezza Infinita Non capisco Perché Google Si ostini A non voler Dare un minimo Di personalizzazione Al telefono E costringa Per avere Un minimo Di personalizzazione A passare A dei launcher Più Seri Oppure Diciamo Delle ROM Personalizzate Ecco Poi per il resto Ci sono le stesse Cose Che ci sono Nell'Android 4.3 Non è che c'è Qualche cosa In più O qualche cosa In meno E quindi Per il momento Mi ritengo Soddisfatto Per quelle che sono Le piccole modifiche Apportate All'interfaccia E-mail E Messaggi Mi ritengo Anche soddisfatto Per quel che Concerne Il discorso Della gestione Batteria Rimango Un po' Deluso Per quello Che riguarda Il discorso Personalizzazione E quindi Aspetto Aspetterò Che Cyanogamod Rilasci La sua versione 4.4 Stable Quindi Stabile E poi Probabilmente Riflescerò Il telefono Per andare A provare Questa Versione Qua Spero Che Questa Questo piccolo Video Possa Essere D'aiuto A chi E' Intenzionato A mettere Dentro KitKat Nel proprio Nexus Vi saluto E alla prossima